Lui della Sierra Leone, 39 anni, lei nigeriana di 36, marito e moglie. Tutti e due sono stati arrestati dalla sezione catturandi della squadra mobile di Prato che ieri mattina ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Anversa in Belgio per pedofilia e tratta di esseri umani. I coniugi, residenti nella zona sud di Prato, regolari in Italia e con precedenti di polizia, sono coinvolti in una inchiesta che riguarda vari reati commessi in Belgio, detenzione di materiale pedopornografico attraverso lo sfruttamento di minori, tratta di esseri umani, associazione a delinquere. Gli agenti che nei giorni scorsi avevano ricevuto il mandato di arresto europeo, provvedimento che sostituisce la richiesta di estradizione, hanno rintracciato marito e moglie presso la loro abitazione. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia, la donna in quello di Sollicciano. La coppia è stata messa a disposizione dell'autorità belga.